Questo lavoro è un lavoro che ho iniziato all'incirca nel 2007-2008 a Firenze, parla delle mie radici. Ma cosa sono le radici? Le radici parlano di me, parlano della mia terra, parlano... parlano. Ma non voglio solo parlare delle mie radici, ma la radice in sé va in profondità, si dirama nel terreno. Ma non solo sotto terra, ma anche in superficie. E questo è una cosa molto importante perché un po' rispecchia l'artista che si confronta con la tela, si confronta con una superficie. Cerca sempre appunto di percorrere nuovi sentieri, quello che io oggi voglio fare con questo mio nuovo lavoro.